Ci siamo. Eccolo lì! Il tesoro è comparso. Aiuto! Sta avvenendo, cosa succede? Eh, ma i suoi occhi nella sua mente saranno bellissimi i suoi desideri, non credi? Morgana, stai calmo, eh? Non fare come Abu in Aladdin, eh? Che poi succede un casino. È parecchio agitato, sì. Mi sembra anche a me. Ma allora è proprio un gatto, altro che umano, ragazzi, ma cosa ci stiamo raccontando? Ah, ma vera, letteralmente fa come Abu in Aladdin. Cioè, ma stiamo... ma dai, ma che roba. Sei un po' troppo agitato. Non è Erbagast, sei un po' troppo agitato. Che cazzo gli prende? Oh, ho paura, ragazzi, io ve lo dico. Sto cominciando a preoccuparmi seriamente. Ecco, infatti, tiralo giù. Eccoli. Beh, magari non solo di fronte a una signora, ma anche di fronte a me, a Ryuji, a me, a Ryuji, no? Non ci pensi a noi? Sì, appunto. Ah, ma allora non sei umano, Morgana. Cazzo, racconti che sei umano. Non lo so, guarda. Può essere. Allora perché non lo fanno gli altri? Allora anche perché gli altri non sono attratti così? Ah, comunque, voi dovete...